ciao andrea benvenuto bentrovato tu sei un fotografo insomma con molta esperienza viaggiato in lungo e in largo ti sei dedicato soprattutto al continente africano e successivamente a quello dell'america latina e sei anche titolare della cattedra di fotografia all'accademia di belle arti l'immagine che hai deciso di condividere quest'oggi con noi mi sembra venga dall'america latina all'argentina e siamo molto curiosi di diciamo sapere che storia c'è dietro e quale attinenza tu trovi con il momento storico che stiamo vivendo grazie buongiorno a te giorgio un caro saluto a tutti gli spettatori è vero ho scelto una fotografia scattata a buenos aires nel 2007 quindi 13 anni fa ed è tratta dal mio ultimo libro fotografico vento di buenos aires edito dalla postcard di claudio corrivetti è una fotografia che ritrae tre granaderos i nostri granatieri praticamente tre militari che stanno scendendo una piccola rampa di gradini ma non si vede il volto non si vede il volto di questi soldati si vedono solamente le tre uniformi lucidissime elegantissime questo passo di danza quasi coreografico che che compiono naturalmente c'è una storia e c'è un'idea dietro questa fotografia l'argentina dentro di me è nata da tante conversazioni che ho avuto con un mio carissimo amico mimmo politano che oggi è un apprezzato conduttore radiofonico in uno dei principali network nazionali ma che è stato anche un notissimo compositore di canzoni sia qui in italia che in america latina ed ha anche insegnato tra l'altro a tutti i nostri cantanti a cantare a incidere in in spagnolo e avendo vissuto lui metà della sua vita in in argentina a buenos aires ne sapeva molto io ero molto curioso tra l'altro lui era una delle prime persone che alla fine degli anni 70 diceva che tanta gente veniva buttata a mare dagli aerei nell'oceano e veniva preso per visionario per pazzo invece era la tragica verità e mi ha aiutato molto a capire l'anima di quella città anche raccontandomi di questi militari che stazionano sempre nei luoghi nevralgici nei luoghi più famosi plaza de mayo la cattedrale e questa piazza dove io ho fatto la fotografia plaza san martin che è una piazza molto strana in discesa a 45 gradi in alto c'è il monumento al generale san martin e scendendo lungo questo giardino c'è il sacrario delle vittime argentine della guerra delle isole malvinas folkland del 1982 i tre granaderos stanno scendendo per omaggiare il sacrario e queste 700 giovani vite ahimè buttate allo sbaragno c'è da dire una cosa che mentre erano in alto nei pressi del monumento del generale san martin i turisti li fotografavano allegramente con le digitali dell'epoca le compatte senza mirino ancora gli smartphone non c'erano e i tre granaderos si facevano fotografare amabilmente sorrisi foto di gruppo poi si sono incamminati giù verso il sacrario io li ho aspettati non volevo mischiarmi a quella folla e è stato fatale essere solo come un lupo solitario e soprattutto mettere una macchina fotografica con il mirino all'altezza dell'occhio e lì si è creata una situazione di tensione perché fai questa fotografia c'era ci verrebbe da dire ma come prima ne avete fatte a quintali con i turisti e hanno cominciato a chiedermi a indagare perché proprio in quel punto ecco beh avevi un evidente aspetto più professionale rispetto ai turisti e quindi eri più minaccioso insomma bravissimo bravissimo avevo un aspetto da diverso non avevo l'abbigliamento da turista lo zaino le bottigliette d'acqua minerale le scarpe da ginnastica in pantaloni corti non ero un turista ecco era un'altra cosa quindi più pericolosa documenti tutto quanto sono straniero tutte queste cose lì e poi insomma chiaramente dei tre due erano di origine italiana era ovvio d'altronde e insomma abbiamo ci siamo chiesti le nostre rispettive provenienze e poi lì è un attimo ho colto la breccia sono entrato e si è cominciati ovviamente a parlare di calcio a parlare di maradona di questa argentina che non vince più il mondiale e insomma lì la situazione si è si è stemperata ma comunque io avevo la sensazione che che questi tre ragazzi dovevano fare questo percorso per forza ma erano totalmente inconsapevoli ecco di una un certo tipo di di situazione che che ha sempre vissuto in un paese come l'argentina questa enorme incertezza economica sociale e via dicendo ecco ed è questa l'attinenza poi con i tempi che stiamo percorrendo in questo momento sì questa è dici bene l'attinenza perché sono tempi molto difficili crisi economica perenne non solo lì ma come sappiamo anche qui e quindi queste situazioni di incertezza generano possono generare a mio avviso pericolose derive che in quella fotografia non si vedono assolutamente però si sentono ho sempre preferito la fotografia misteriosa che non dimostrasse per forza qualcosa infatti volti non ci sono e molte volte i poteri non hanno volto non non sappiamo come come riconoscerli quindi è una foto estremamente simbolica che probabilmente per la mia formazione umanista surrealista ho deciso di dargli questa chiave di lettura bene andrea abbiamo poco meno di un minuto prima di concludere otto minuti sono volati bene l'ultima domanda è questa clausura questa quarantena forzata che tutti stiamo vivendo tu come la stai passando ma la sto passando bene perché in fondo giorgio l'arte la cultura sono degli antidoti dei deterrenti alla malinconia formidabili sto correggendo le bozze finali in questo saggio sulla fotografia che che ho scritto si chiama la libertà del fotografo e naturalmente mi impegna molto questa opera di limatura e poi c'è l'archivio come tutti noi abbiamo che questo c'è uno sterminato di scoperte e riscoperte esattamente passo il mio tempo così benissimo benissimo andrea sarebbe bello continuare probabilmente avremo altre occasioni per parlare di altre immagini tue ti ringrazio tantissimo di questa piacevole discussione in bocca al lupo per il tuo lavoro grazie auguri anche a te il lupo è già crepato per tutti grazie giorgia presto ciao andrea grazie a tutti